Today, oggi, inizio una, anche se in realtà già l'avevo iniziata qualche mese fa, diciamo una serie, più o meno, comunque una playlist, una nuova playlist, creo questa nuova playlist, penso, nuova sul cibo, cioè su alcuni cibi che ho ripreso, diciamo, il mese scorso e, diciamo, qualche giorno fa, ma questi video che non sono riusciti a caricare perché, un po' perché non ho avuto tempo per caricare, è stato un periodo molto intenso sul canale principale tastiera, altri canali tastiera, proprio perché ho avuto dei problemi col computer, diciamo, in questo mesetto e quindi non sono riuscito a caricare questi video sul cibo, in qualche modo tutti questi video avranno un sottofondo musicale con delle mie interpretazioni, sempre dal mondo del maestro, Come dicevo, in realtà già, in estate avevo caricato qualche cosa su una playlist chiamata, c'è tutto, in questa playlist chiamata, ecco la playlist chiamata My Damned Fine, cioè, i miei dolci, diciamo, preferiti, ma adesso, creo questa playlist più ampia sul cibo, la chiamerò, penso, proprio food, comunque, metto tutte le informazioni in descrizione, In ogni caso, oggi, iniziamo con la presentazione, diciamo, della mia colazione, che poi, tra l'altro, c'è un qualcosa in questa colazione che fa riferimento anche a qualcosa di cui il maestro ha parlato nel suo weather report di domenica scorsa, E quindi, sì, dicevo, sempre, tutti questi video saranno sempre con le mie musiche sotto, e poi, praticamente, perché sono video datati, appunto, come ho detto, a date precedenti, a partire dal mese scorso, Per ogni video fatto, inserirò la data, per ogni video inserirò la data corrispondente al giorno in cui è stato ripreso, per il rispetto, diciamo, dell'appunto, del giorno in cui è stato ripreso, è quindi sì questo, quindi, let's go, con il primo video sulla colazione.